Capire cos'è il mondo delle telecomunicazioni non è facile. Costruire qualcosa di innovativo in questo mondo è decisamente difficile. Lasciare un segno che duri nel tempo è ancora più difficile. Per essere grandi in questo mercato, infatti, servono coraggio, fantasia, forza, innovazione, la giusta squadra, strategia e tanta voglia di vincere. Elementi che appartengono a due grandi realtà, con diverse culture, ma con gli stessi obiettivi. Due aziende nate in periodi diversi, ma con la stessa voglia di lasciare il segno. Modi diversi di affrontare il mercato. Linguaggi diversi per la propria clientela, ma di grande impatto. Battaglie difficili, complesse, gestite però sempre con stile e correttezza. Un lungo percorso su binari paralleli, con un destino che sembrava non volerle mai unire. Un destino che nel tempo, invece, ha cominciato ad unirle per costruire qualcosa di unico. Sì, unico. Perché due mondi così particolari erano destinati a creare qualcosa di veramente unico. Qualcosa che a breve cambierà il modo di interpretare e gestire il futuro del mondo delle telecomunicazioni. È il futuro. Il nostro futuro. Ed è proprio lì che stiamo andando. Insieme. Wind 3 Be one To be number 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 one Grazie a tutti.